buongiorno allora ho letto una interessante interpretazione da parte di tutto sport sul fatto che la juventus e sul perché la juventus sarebbe rientrata nell'eca ovviamente c'è quella parte della relazione che abbiamo dato anche noi ieri ossia la rottura con il recente passato da parte della proprietà e della società ma anche una sorta di mossa di convenienza si ci può anche stare tutto ci può stare sento anche di condividere abbastanza ossia praticamente cosa è successo che da quando la juve aveva messo in atto la sua battaglia per fondare la superlega diciamo che i trattamenti non sono stati ottimali quello che è successo lo scorso anno con le plusvalenze con l'esclusione da parte di ceferin eccetera ha dato l'idea di una società abbastanza presa di mira anche a livello europeo perché comunque avrebbe dovuto fare la conference league magari era meglio è stato meglio così non lo so visto poi come la piega che aveva preso la stagione ecco e quindi sostanzialmente con questa mossa di rientro nell'eca dal momento che non è detta che la superlega parta subito magari ci vuole ancora qualche ammetto la juventus ha bisogno di rientrare anche nella considerazione a livello internazionale rientrare nell'eca per la juve non significa solo rientrare materialmente ma significa anche avere una voce in capitolo farsi sentire come si suol dire avere un peso politico perché la juventus è volenti o nolenti una società più importanti del mondo e quindi rientrare in questo tipo di organizzazione che al momento è quella più importante e al momento esiste solo la champions tra l'altro la prossima edizione allargata ecco era importante per la juventus poter rientrare in questo organigramma come dire parlo di organigramma proprio perché di fatto poi la juve è una società che ha peso politico o meglio ha bisogno di riacquistare peso politico quindi alla base di questo questa decisione ci può essere appunto questo tipo di considerazione cos'è un sottomettersi può essere interpretato come un sottomettersi però ragazzi anche fare questa è l'interpretazione che viene data e non è la mia il mio pensiero anche fare si dice appunto la battaglia dei mulini a vento in questo momento qua appunto è no risulta rischioso cioè tu vai avanti ma al momento nessuno ti segue si se non real madrid e barcellona ma in tre c'è ben poco da fare al momento al momento cioè non c'è ancora stata una presa di posizione ufficiale da parte di tutti gli altri club coinvolti che potrebbero partecipare alla futura superlega non c'è stata ancora una presa di posizione decisa per andare contro il governo diciamo così dell'uefa e l'eca che il suo braccio armato praticamente no quindi stiamo dentro qua ritroviamo un certo peso e una certa considerazione per evitare diciamo così di essere poco considerati anche quando si gioca che non vuol dire essere aiutati e cercare di essere aiutati no 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 di essere considerati è diverso e poi e poi si vedrà quello che succederà a livello di superlega certo che uno entra e esce entra e esce un fiorino è come non ci resta che piangere uno entra e esce è un fiorino e paga un fiorino lo fa non per pagare un fiorino ma per guadagnare più fiorini insomma sia da una parte che dall'altra ecco sostanzialmente questa sarebbe l'interpretazione che non mi sento assolutamente io non sono nessuno per carità ma personalmente dovendo esprimere opinione non mi sento di escludere questo tipo di interpretazione che da tutto sport della vicenda eca e superlega vediamo le questioni di campo di campo adesso il campo è fermo naturalmente però insomma è una juve che si sta preparando alla prossima sessione di mercato che ufficialmente hanno ancora iniziato ma già si ovviamente si parla eccetera resta in forte ascesa il nome di calafiori che è uno dei giocatori che assolutamente tiago motta vuole con sé pur avendo tantissima stima di bremer per esempio a lui piace molto bremer quindi bremer la clausola tra l'altro scatta dal prossimo anno per bremer ma non dovrebbe muoversi proprio su indicazione del tecnico mentre c'è appunto questa discrepanza su sule che al tecnico piacerebbe al neotecnico piacerebbe ma che la juve continua a considerare elemento da vetrina come su amazon c'è la vetrina iniziale elemento da vetrina al tempo stesso non c'è tutta questa idea di rinnovare il contratto comunque ci sono delle difficoltà sul rinnovo del contratto di chiesa quindi è chiaro che poi la società se dovesse se dovesse non rinnovare con chiesa e quindi far partire chiesa perché ripeto ancora una volta chiesa non si presenterà via la prossima stagione col contratto in scadenza e vendere pure sule deve trovare ovviamente un'altra alternativa per un esterno alto dovendo fare l'attacco a tre quindi il dist c'è la punta centrale c'è blavich l'avete sentito anche molto carico e voglioso di tornare a giocare in champions mi sembra è strano no questa situazione di blavich cioè normalmente si direbbe ma insomma la juve non gli da questi 12 milioni non gli darà mai 12 milioni netti all'anno però non arriva mai in questo momento della spalmatura e lui continua a manifestare un grande attaccamento alla juve lui vuole riportare la juve in alto vuole vincere con la juve e non vede l'ora di giocare la champions con la juve quindi quindi bisogna ben che si arrivi a canossa perché dall'anno prossimo che scatta l'aumento quindi devono le parti trovare al più presto un accordo per fare in modo che blavich si spalmi questa cifra qua lui mi sembra orientato in questo altrimenti non si esprimerebbe in questo senso e comunque vendere blavich in ogni caso non solo per il prezzo del cartellino ma per perché ovviamente se tu c'è di un giocatore c'è di suo contratto e invece c'è di contratto quindi se una società dovesse investire sul cartellino di blavich dovrebbe farsi carico anche dei 12 milioni di netti l'anno che scatteranno dal 2025 non è una roba semplice però mi sembra che ti sia questa buona volontà l'altro dato che emerge è che scesni è intenzionato a rimanere anche in scadenza di corante fino alla scadenza del contratto che non verrà rinnovato e e quindi a questo punto se scesi si impunta di lasciare la juve l'indiziato per lasciare il posto di gregorio diventa mattia per in e quindi di gregorio partirà certamente da una posizione di svantaggio quindi come dice resta il fatto che resta il fatto che ci saranno tanti impegni e quindi ci sarà bisogno di entrambi i portieri chiusura chiusura sulla vecenda allegri attenzione perché se allegri dovesse vincere la causa davanti al giudice e al tribunale del lavoro la juve potrebbe vedersi costretta a sborsare una grossa cifra oltre a riconoscergli tutto l'ingaggio quindi non so quanta convenienza ci sia in questo momento credo che la juve è partita dritta spedita verso la causa però sarà una vicenda tutta da seguire molto 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 pesante molto pesante a meno che improvvisamente come era successo con bonucci un anno fa improvvisamente le due parti non trovino una cosa ma il muro contro muro è molto rischioso molto rischioso e la juve rischia fortemente di dover sborsare una grossa cifra questo è un dato di fatto ho detto rischia ma certo non sto prendendo le parti di nessuno vi dico tecnicamente la juve se perde quella casa se si va in casa e la perde la juve tira fuori una grossa cifra iscrivetevi al canale vediamo se ci sarà tempo e spazio per stasera per fare un nuovo video e poi stasera c'è la cremonese che si gioca tutto mamma mia ciao ciao